Maria De Filippi, ecco chi è il fratello. Maria De Filippi, come tutti sanno, è la regina indiscussa della tv italiana da oltre un ventennio. Lavorativamente parlando si sa tutto, visti i successi del suo programmi. Della sua vita privata invece, si sa un po' o meno, a parte il fatto che ha sposato Maurizio Costanzo nel 1995, e che ha un figlio adottivo, Gabriele. Per il resto, della sua famiglia e della sua infanzia non si sa molto. Sino a poco tempo fa, si sapeva solo che la nostra Queen Mary, è vissuta e cresciuta a Mornicola Sana, un paese in provincia di Pavia, insieme ai genitori. Il padre era un rappresentante di medicinali, mentre la madre un insegnante di latino e greco. Si sa che ha un fratello più grande di lei di sette anni, di nome Giuseppe. Ebbene, poco tempo fa, proprio la nostra Queen Mary ha svelato qualche dettaglio in più sul fratello. Parlando di lui in una intervista, la De Filippi ha ricordato come da piccola, vedesse il fratello quasi come un mito, un modello da imitare. Giuseppe andava molto bene a scuola, e la nostra Maria voleva essere proprio come lui. Ricorda ancora come, da piccola, volesse sempre entrare nella camera del fratello, e stare con lui. Peccato che Giuseppe non volesse avere la sorella più piccola tra i piedi, tanto da arrivare a mettere un compensato sulla finestra, per non essere spiato. Anche se la De Filippi parla raramente della sua famiglia, in quelle poche volte che lo ha fatto, si è capito che è molto legata ancora oggi al fratello Giuseppe. Ma di cosa si occupa il fratello della nostra Queen Mary? Ebbene, si è scoperto che Giuseppe lavora proprio con la sorella. Ed infatti amministratore delegato della Fascino PGT, la casa di produzione fondata da Maria e da Costanzo. Dunque, anche il fratello della De Filippi lavora in ambito televisivo. Maria lo ha voluto accanto a sé anche sul lavoro, segno che fratello e sorella, seppur abbiano caratteri molto diversi, sono legatissimi. Guardando le immagini di Giuseppe De Filippi, si è scoperta pure un'altra cosa. Il suo volto non è sconosciuto al pubblico di Canale 5. Forse non tutti ci avevano fatto caso, ma ora è saltato fuori tutto. Giuseppe lo si è visto spesso in questi anni in TV, come conduttore e giornalista del TG5. Ecco perché per molti è un volto familiare. Dal 1992 lavora come giornalista per il telegiornale di Canale 5, e nel corso di questi anni, ha scritto anche per vari quotidiani nazionali. Ora è pure amministratore delegato nella Società della Sorella. Quindi si può dire che i fratelli De Filippi abbiano fatto carriera e avuto successo sulle reti Mediaset. Oltre che sul lavoro, Maria e Giuseppe sono legatissimi anche nella vita privata, tanto che trascorrono insieme anche le vacanze. Più volte infatti, i paparazzi li hanno beccati, sia sugli yacht privati, che nella villa ad Ansedonia, oppure durante le settimane bianche. Insomma, tra fratello e sorella c'è un legame indissolubile. Sapevate che il giornalista del TG5 è il fratello di Maria? A voi i commenti. Metti mi piace, e iscriviti al canale, per ricevere gli aggiornamenti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.